Sono molto contento per l'assist, sono contentissimo per Fabio che ha raggiunto la doppia cifra e siamo contenti noi perché dopo una brutta sconfitta siamo rialzati alla grande. Sono due squadre assolutamente fortissime, però noi abbiamo dimostrato l'andata di potercela giocare con tutti, anche contro loro due. Sì, noi siamo un gruppo sano che il mister quando chiama in causa qualsiasi persona di noi risponde presente.